L'Europa centrale è divisa da un muro a Berlino. Di là dal muro a est, le nazioni oppresse dell'impero sovietico, ateo e comunista. Vani i tentativi di ribellione. Vengono repressi violentemente in Polonia e nella Germania orientale, già dai primi anni 50, e poi con l'intervento massiccio dell'armata rossa in Ungheria, nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968, dove i carri armati sovietici soffocano le speranze della primavera di Praga sotto gli occhi del mondo impotente. Vescovi prigionieri o impediti, dall'ungherese Mizzenti al cecoslovacco Beran, all'Ucraino Slipi, che torneranno liberi, ma esiliati, durante il concilio, al polacco Wyszynski, che ha sopportato il carcere, ma che il regime è costretto a tollerare, per la forza che deriva dalla grande adesione popolare alla sua chiesa. Per allentare la morsa che impedisce la vita regolare delle chiese di là dal muro, Paolo VI, attraverso Casaroli, ha inaugurato lo Spolitik, la politica dell'Est Vaticana. Papa Montini vorrebbe andare di persona all'Est, a cominciare dalla cattolica Polonia, sempre fedele a Roma, ma le autorità comuniste polacche hanno paura. Grava la minaccia del capo del Cremlino, Leonida Brezhnev. La vostra sovranità è limitata. Ricordate che siete paesi satelliti dell'Unione Sovietica. Da Varsavia, niente visto a Paolo VI. Il nuovo Papa sa certamente tutto questo, ma ripete... Non abbiate paura! E adesso? Si può negare il visto di ritorno nella sua patria, in Polonia, al primo Papa concittadino? È chiaro che non si può. Le autorità comuniste polacche dell'epoca devono far buon viso a cattivo gioco. No, non credo. Il viaggio è fissato, non a caso, per il tempo di Pentecoste, dal 2 al 10 giugno 1979. C'è un milione di persone in Piazza della Vittoria, a Varsavia, ad attendere questo figlio della Polonia che è diventato Papa e sarà quel Papa a pronunciare le parole vive attese dalla gente. Parole che sembrano una sfida. Scendi, Spirito Santo! e rinnova la faccia della terra. Di questa nostra terra. Non è possibile capire, senza Cristo, la storia della nazione polacca. E in qualsiasi parte del globo, l'esclusione di Cristo dalla storia dell'uomo è un atto contro l'uomo. Dopo questa frase, la folla esplode in un applauso di liberazione che covava da chissà quanti anni. Per più di dieci minuti, Giovanni Paolo II non riesce a continuare. E' veramente un terremoto popolare. da Varsavia a Cestocova, da Auschwitz a Cracovia, da Nova Uta a Calvaria, a Vadovice, dove Karolo Voitio è nato nel 1920. Ma forse in quel primo viaggio del 1979, la tappa più carica di conseguenze politiche è stata Niesco, la culla del cristianesimo polacco. E il 3 giugno, proprio il giorno di Pentecoste. Niesno è ormai un piccolo centro nel nord del paese. Non sono attese grandi folle. Forse per questo motivo, anche la televisione sovietica questa volta ha avuto il permesso di collegarsi in diretta per descrivere l'evento della visita del Papa e diffonderlo negli stati baltici, in Bielorussia, in Ucraina. Un calcolo sbagliato. Se ne accorgono appena Giovanni Paolo II comincia a parlare. Questo Papa Slavo viene per parlare davanti a tutta la Chiesa, all'Europa, al mondo, di queste nazioni e popolazioni spesso dimenticate. Viene per gridare a gran voce non siete dimenticati. Vi stringo al cuore della Chiesa. Mi ascoltate voi? A questo punto, i sovietici si accorgono dell'errore e tagliano le linee. È ormai troppo tardi. Da Niesno 1979 comincia una nuova storia. Le prime conseguenze maturano nella stessa Polonia. Nasce e si impone, incrinando il partito unico comunista, il sindacato Solidarnosc, guidato da un operaio di Danzica, Lech Walesa, che si muove con l'emblema della Madonna Nera sul bavero della giacca. Cose inconcepibili in un sistema comunista. Per evitare l'invasione sovietica, il generale Jaruzewski organizza un colpo di stato militare polacco, l'autogolpe. Ma il Papa non dimentica la patria. Torna in Polonia anche nei giorni del pericolo e chiede alle nuove autorità il rispetto degli accordi raggiunti. Dice che veglierà su tutto quello che potrebbe minacciare la libertà della Polonia. Ma intanto è a Mosca, nel centro dell'impero, che cambiano le cose. Tre decessi di seguito al Cremlino, Brezhnev, Andropov e Cernienko. Dopo tanta gerontocrazia e i gerarchi sovietici per salvare il sistema, eleggono un giovane, Mikhail Gorbachev. Cercherà di innovare almeno la facciata. Parla di glasnost, trasparenza, perestroica, ristrutturazione. Nel 1988, per il millennio dell'introduzione del cristianesimo nella Russia, Gorbachev invita al Cremlino tutti i capi religiosi. Ci va anche il cardinale Casaroli, l'autore di un messaggio pontificio e di un invito in Vaticano. Intanto, una frase di Gorbachev ha fatto il giro del mondo. si devono superare i vecchi stereotipi per un nuovo modo di pensare. E arriva il 1989. Dopo dieci anni da quel primo viaggio di Giovanni Paolo II in Polonia, arrivano i giorni straordinari della caduta dell'Uro di Berlino. Le nazioni dell'Est europeo cominciano una nuova storia. E il primo dicembre di quell'anno assistiamo anche a un'udienza straordinaria. Gorbachev, con la moglie Raisa, entra nei sacri palazzi del Vaticano. È emozionato, si vede, stringe i pugni man mano che si avvicina al passo decisivo, prima della stretta di mano. Una frase in russo di Voitiva scongela la situazione. Benvenuto nella casa del Papa, che è la casa comune dei responsabili di tutti i popoli. Ma a Mosca, di lì a poco, c'è l'ultima scossa del terremoto. L'Unione Sovietica si dissolve. Resta per il futuro la raccomandazione di Giovanni Paolo II. Raccogliamo le pietre delle mura cadute per costruire la casa comune dei popoli del mondo. L'elezione dell'Arcivescovo di Cracovia, successore di Pietro, fu subito interpretata come il segnale che metteva termine alla stagione secolare della direzione italiana della Chiesa Universale. Giovanni Paolo II per storia, formazione e cultura era lontano dalla specifica vicenda della Chiesa italiana, lontano da tutti i controversi luoghi in cui tale vicenda si era dipanata, la formazione dello Stato nazionale e il conflitto fra la Santa Sede e il Risorgimento. Era per lui impercettibile l'eco della riscossa della Chiesa che spinse gradualmente i cattolici a sporcarsi le mani con la politica, prima con l'opera dei congressi, poi con la nascita del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo e dopo la Seconda Guerra Mondiale la quarantennale egemonia democristiana con esiti non sempre coerenti in termini morali e religiosi. A tutta questa storia Papa Vojtiwa poteva guardare senza quella appartenenza forte che aveva inciso nel bene e nel meno bene sui suoi predecessori. una estraneità che una volta diventato vescovo di Roma e primate d'Italia si trasforma in un'opportunità. Un Papa straniero paradossalmente aiuta l'Italia a uscire dagli steccati del localismo e del provincialismo e a riscoprire il suo ruolo fondamentale in Europa. Alla penisola infatti Giovanni Paolo II chiede di non essere chiusa in se stessa magari in contemplazione di uno splendido passato di non adeguarsi bensì di assumere piena consapevolezza e responsabilità fra le grandi nazioni del continente.